Bella a tutti i miei slimes qui a Al, bentornati nel mio canale, eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di Lil Kid. In realtà questo video lo faccio uscire solo adesso ma ce l'ho pronto da un casino di tempo, da praticamente quando è morto, solo che ho aspettato un po' per non passare come lo sciacallo di turno. Come per ogni rapper che trattiamo in questo format andremo a scoprire tutta la sua vita a partire dalla nascita fino a purtroppo la morte e come al solito prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste, attivare la campanellina così questi video non ve li perdete più e soprattutto scrivetemi nei commenti un rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Io partirei proprio dalla morte ma più che altro perché ancora oggi non si sa bene cosa sia successo, pensate un po' siamo al il 13 giugno, non si ha ancora una dinamica precisa di ciò che sia successo. La notizia ufficiale o comunque quella che è stata riportata anche sui giornali come TMS e quant'altro è che abbia avuto un'insufficienza renale o comunque problemi a livello di reni. E a confermare ciò ci sarebbero anche delle voci che dicono che Lil Kid qualche giorno prima di morire abbia avvertito dei dolori a livello di stomaco fortissimi. Il tutto sarebbe perfetto se non poi la mamma proprio di Lil Kid sui suoi profili social quando insomma sono uscite queste notizie riguardanti il motivo della morte ha negato tutto dicendo di fare silenzio perché non sapevano insomma cosa fosse davvero successo. Quindi ancora ad oggi non si è capito bene Lil Kid come sia morto. Ma facciamo un piccolo salto indietro anzi torniamo totalmente indietro proprio all'inizio perché il vero nome di Lil Kid è Rakid Javon Render ed è nato il 16 marzo 1998 ad Atlanta in Georgia il primo di sette figli. Prima piccola curiosità tra questi sette ragazzi c'è anche Lil Gotit che a tutti gli effetti è il fratello sanguigno di Lil Kid. Già dal luogo di nascita possiamo farci un'idea sulle sue influenze musicali come il 90% di chi nasce ad Atlanta il ragazzo infissa con la trap music. Per finanziare le prime canzoni ha lavorato prima a Subway poi a McDonald e trovandosi vicino uno studio di registrazione ci andava lì spesso molte volte proprio col fratello Gotit. Nel 2016 inizia a prendere la musica un pochino più sul serio c'è dovuto alla morte di Rudy quello che ai tempi era un amico stretto di Kid. Continua così a droppare singoli e nel 2017 viene finalmente notato da un certo Jan Tag. Entrambi hanno vissuto praticamente nella stessa zona e già bene o male si conoscevano. Racconta Tag in un'intervista di aver iniziato a sentire parlare di Kid grazie a sua madre intendo proprio la mamma di Jan Tag. Un giorno quindi lo hitta nei DM e decidono di beccarsi proprio nel Lood dove viveva il rapper. C'è un video che poi è diventato virale di Jan Tag che chiede a Kid di fargli sentire qualcosa di suo e non appena Kid glielo fa sentire si vede Tag che apprezza e non poco. Il resto è storia perché subito dopo quel video nel 2017 Kid entra a far parte di WSL l'etichetta di Jan Tag che ultimamente insomma ne ha combinate un bel po'. Ci ho fatto anche un video quindi ve lo lascio in descrizione e vado un po' a far chiarezza su tutti gli arresti che hanno praticamente coinvolto quasi tutti i membri dell'etichetta. Il rapporto che c'è tra i due è praticamente padre figlio. Tag prima di lui ha cominciato a fare musica e a lasciar perdere la strada e a switchare vita in tutti i sensi. Quindi chi meglio di lui può aiutare Kid a fare lo stesso. Il suo primo progetto che possiamo definire serio è Trap on Cleveland 2 uscito il 23 luglio del 2018. Cleveland è il nome della strada dove ha vissuto da ragazzo e trapped sta proprio a significare intrappolato. Chiaramente si riferisce anche alla trap, trap house e via dicendo. Ad agosto esce Slime Language il primo tape della label WSL dove lo troviamo in più tracce e in tutte bene o male fa la sua sporca figura. Ad ottobre invece lui e suo fratello vengono chiamati dall'illusivert in heavy metal, un singolo uscito con tanto di video su YouTube che ai tempi gli diede una bella spinta in termini di popolarità. A dicembre invece ecco Kid Talk Toon, il vero primo progetto che lo mette sotto i riflettori. All'interno è contenuta quella che a mio avviso è tutt'oggi la sua miglior canzone e sto parlando di Nameless, veramente assurda. Se non la conoscete vi consiglio assolutamente di recuperarlo. Ad oggi vanta di più di 40 milioni di streaming e in questo album troviamo anche diversi ospiti interessanti. Giusto per citarne qualcuno, 21 Savage, Lil Durk, 3P Red ma anche tanti altri. A mio avviso tutt'oggi si tratta del miglior progetto di Lil Kid, quello con cui io personalmente me ne sono innamorato e quindi se non l'avete ascoltato ancora una volta ve lo consiglio. Le somiglianze con tagga sono davvero tante a partire dalla capacità di alternare bangers a canzoni più introspettive. Tutto contornato da una voce molto acuta che il rapper è in grado di modellare a suo piacimento. Anche per questo forse Yantag l'ha preso così tanto a cuore. Nel 2019 continua la sua scalata e singolo dopo singolo si afferma come uno dei rapper più freschi dei tempi della scena americana. E di fatti il 27 marzo viene nominato da XXL per il decimo posto dell'edizione annuale del Freshman Class. Il 13 giugno ecco finalmente Long Live Mexico, il suo primo album studio. Viene interamente dedicato a Mexico, un amico stretto di Kid venuto a mancare qualche mese prima del drop. Accompagnato da tre singoli pre-album vende 16.000 copie alla prima settimana che non sono tantissime ma considerando che Kid non fosse affermato ci sta. A mio avviso l'album scorre in maniera molto fluida nonostante abbia 20 tracce e tra queste troviamo anche feat come Yantag che è presente in due tracce, Roddy Ricci, Lil Uzi e tanti altri. Con questo progetto possiamo dire che Kid si afferma nella scena americana. Nonostante io gli preferisco Kid Talk To Em però ritengo anche questo molto molto valido. Come artista è veramente molto attivo quindi nonostante drop i album non mancano anche i singoli oppure i featuring con altri colleghi. Per esempio esce una canzone intitolata Undefeated con Future e se non la conoscete recuperatela perché si tratta di un banger allucinante senza senso. Chi la conosce sa sicuramente di cosa sto parlando. Arrivati poi nel 2020 esce un nuovo progetto Trap on Cleveland 3 che tristemente poi diventerà anche il suo ultimo droppato in vita. Il terzo volume della saga a livello di vendita fa più o meno i numeri di Long Live Mexico quindi quasi 16.000 copie vendute alla prima settimana il che non è proprio esaltante. Vi dico io come la penso. A me questo progetto non fece proprio impazzire nel senso che per quelle che erano le mie aspettative mi aspettavo qualcosa di veramente grosso che fosse proprio il next level. Cioè facesse diventare Lil Kid veramente la next big thing. E invece l'ho trovato un po' ripetitivo, un po' pesante perché comunque anche in questo caso si parla di molte tracce e in generale non c'era quella scintilla che mi aspettavo da Lil Kid. E parlando di questo potrei anche aggiungere il fatto che lui a partire diciamo sì da questi anni quindi dal 2020 fino al 2022 che poi purtroppo è venuto a mancare ha vissuto un periodo un po' di stallo. Nel senso che negli anni prima aveva dimostrato tantissimo e aveva anche raccolto tutto ciò che aveva seminato prima. Però poi arrivati in questi anni non è riuscito a fare ripeto il next level cioè quello che bastava per diventare veramente un big della scena americana. E lo stesso discorso lo si può applicare a Lil Got It diciamo che entrambi si sono un po' persi. Erano due artisti con cui io ero super in fissa quando li ho scoperti nel 2017-18 e invece attualmente non ci fotto neanche più di tanto perché ripeto non mi hanno più detto molto. Mi aspettavo di più da loro da molto di più perché avevano dimostrato di avere un potenziale incredibile. C'è da dire che Lil Got It per carità è ancora in tempissimo per comunque rifarsi e per blow upare a tutti gli effetti. Per Lil Kid purtroppo il tempo è scaduto e sapete quello che penso no? Quando muoiono artisti così giovani con così tanto talento e appunto così giovani così presto è sempre una merda. Perché Lil Kid come abbiamo visto inizio video era classe 98 quindi si trattava di un ragazzo che è morto a 24 anni e tra l'altro ha lasciato anche una figlia se non sbaglio di 3 anni. Peccato, peccato veramente. Non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate di Lil Kid quando l'avete scoperto, qual è il vostro album preferito, cosa ne pensate di lui veramente scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete altri video così. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social e TikTok soprattutto se mi seguite per i video del rap americano. Lì tratto un sacco di rap americano quindi seguitemi su TikTok ma trovate anche il gruppo Telegram in cui mi farebbe molto piacere se entraste. È una piccola community in cui parliamo di musica. Condividete questo video con quanta più gente volete potete e noi ci vediamo ad un prossimo Slat.